Vendita, assistenza e riparazioni di motocicli e biciclette Manca abbigliamento moto e caschi Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote A Voghera, in piazza Garibaldi 12 Buon venerdì a tutti, benvenuti a Vox Populi Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno Un libro apporta miglioramenti in termini di longevità Lo dice la scienza Infatti i recenti studi hanno dimostrato che chi legge vive in media due anni in più rispetto a coloro che non sono abituali lettori poiché è una condizione mentale positiva e influenza anche il nostro corpo il quale trae beneficio da questo stato di benessere Lei crede che sia una cosa possibile? Sì, fa bene leggere Sinceramente dare, sì potrebbe dare longevità però nel senso leggere comunque aiuta la mente a svilupparsi a non rimanere bloccata Io sinceramente leggo poco però se leggessi di più penso che avrei una mente più elastica Penso di sì, io non è che sia un grande lettore di libri perché sono più lettore di giornali per le notizie giornaliere così però non escludo cioè leggere anche tanti libri insomma non è la cosa principale che cioè la lettura per me non è più importante ma preferisco leggere le notizie giornaliere, politica, attualità, sport perché hanno un effetto più pronto insomma mentre invece il libro porta più a leggere insomma è una cosa più impegnativa comunque sicuramente se lo dico non è una cosa vera Lei legge? No, sì leggevo, leggevo molto adesso invece ci vedo poco, non leggo più tanto Che libri leggeva? Leggevo libri di storie insomma libri che non mi ricordo neanche più Quanti libri leggi in genere al mese più o meno? Al mese è duro però fai uno ogni tre mesi sì quando mi capita qualcosa comunque che mi interessa soprattutto tipo di ambito storico attuale, politica attuale Lei consiglierebbe ai ragazzi di leggere? Sì, sì certo, sicuro anzi io e i miei nipoti ho sempre consigliato di leggere e di studiare perché per me è una cosa positiva per l'amor di Dio adesso io i miei anni sono passati ma però è giusto leggere e studiare Finita l'estate parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti e per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spotchiocciolaocchiopavese.it Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese Grazie a tutti